Ragazzi, comunque ho promesso che vi avrei fatto il vlog, comunque sto qui, sto in treno, sto andando a Roma per il concerto di Beyoncé e vi farò questo benedetto vlog, che non faccio vlog da tanto tempo, quindi mi sono vestito una merda, lo so non mi... Allora, siamo arrivati nella splendida cornice di Roma Tiburtina, mi viene anche in mente. Andiamo un po' a cazzeggiare, giustamente, il concerto sta alle 8, non sapendo che cazzo fare, ovunque, quindi... Ora si va a cazzeggiare ovunque, giustamente, fino alle 7 c'è tempo. Allora, diciamo che è arrivato anche l'ora dell'aperitivo, sono qui all'Apero Spritz, sul Teverone, vicino al Castel Sant'Angelo. Diciamo, Beyoncé me la sto prendendo proprio con comodo, però tranquilla che stasera sarò tutto, tutto tuo. Ben detto, sto consumando questo splendido aperitivo, che l'ho finito sull'altro. Sentite il sonno, ce la tengo due ore di sonno addosso. Allora, ragazzi, sono appena uscito dal Vaticano ed è stupendo, maestoso, è stupendo, veramente, bello, bello, bello. Ci sono andati veramente pesanti con la vendita delle indulgenze nel Medioevo, perché veramente è stupendo. Perché non so se vedete, ma anche da qua la vista è spettacolare, ragazzi. Cioè, il Vaticano veramente è il top, dai. Oh, allora ragazzi, come al solito sbaglio, sempre. Allora, mai prendere la pizza se non sei a Napoli. Infatti ragazzi, tutto questo è furche pizza, guardate, è un tacchero, cioè una sola deve una scarpa, tipo. Eppure cazzo sono venuto a mangiare, proprio sul Tevero, è Dio santo. Guarda qua, guarda, senza parole. Allora, da come ben potete notare, sono arrivato finalmente all'Olimpico. Anche se non so, ah, ecco, due. Anche se non so dove entrare, finalmente penso di farcela. Sì. Sono arrivato, il mio posto dovrebbe essere laggiù. Ed ecco qua, ragazzi, non ci posso credere, l'immensità. Allora vi precipito, giù, 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 giù. Ragazzi, non ci posso credere, però un po' lì sopra ci sarà Beyoncé. Mi passa per il cazzo del marito, lo sapete, ma Beyoncé è Beyoncé. Ragazzi, altro che Beyoncé abbiamo Emma Marruna. I've been drinking, I've been drinking. I've been drinking, I've been drinking. I've been drinking, I've been drinking. Why can't I keep my fingers up, baby? I don't want you. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.